eccoci e bentornati sul mio canale dopo il successo del primo episodio sia multiplayer che zombie se vi avevo chiesto 250 mi piace ne abbiamo ottenuti ben 303 partiamo subito con il secondo episodio delle tre cose che dovete sapere sul multiplayer di call of duty world war 2 a raggiungimento dei 250 mi piace subito un nuovo episodio sia multiplayer che nazi zombies sigla riprendiamo la mia rubrica le tre cose che dovete sapere sul multiplayer del prossimo call of duty targato sledge armor games con i perk ne abbiamo parlato e ne abbiamo accennato qualcosa nel primo episodio però in tanti mi avete chiesto delucidazioni e maggiori dettagli appunto sui perk che troveremo all'interno di call of duty world war 2 come sapete all'interno del multiplayer non ci saranno i classici perk quindi le specialità che potevamo scegliere ma soprattutto ci dovevamo regolare con gli slot a disposizione perché non potevamo mettere ad esempio sei specialità e poi non mettere nessun accessorio dell'arma perché avevamo tot numero di capienza per mettere accessori delle armi armi secondarie specialità equipaggiamenti e quant'altro nel prossimo call of duty non ci saranno quindi i perk ma ci saranno le division trading e le basic trading le division trading praticamente sarebbero i perk che possiamo utilizzare soltanto con quella divisione quindi praticamente questa è una cosa molto importante perché ovviamente ogni divisione avrà dei perk specifici mentre il basic training a quanto pare saranno i perk che potremo utilizzare con tutte le varie divisioni però non sono perk singoli cioè ad esempio non possiamo mettere o silenzio di tomba o disturbatore uav come facevamo oppure mettere sciacallo questi sono dei veri e propri pacchetti di perk avete capito bene praticamente la filosofia della sledgehammer games è quella di scegliere il pacchetto di specialità che ci interessa di più ad esempio prendiamo il pacchetto for age all'interno abbiamo la possibilità di switchare l'arma più velocemente la possibilità di utilizzare un equipaggiamento più veloce e anche recuperare armi ed equipaggiamenti dai morti ma ci sono tanti altri pacchetti come ad esempio l'undercover la possibilità appunto di uccidere senza rilevare dove si trovava il nemico oppure quando veniamo puntati dal mirino del nemico non appare il nostro nome quindi sono veramente tantissimi questi pacchetti dovremmo scegliere quello che ci interessa di più appunto all'interno delle divisioni ci sarà ad esempio un altro che prenderà il nome di loaded quindi maggiori munizioni e la possibilità di ricaricare l'arma più velocemente con questo spero di aver aggiunto ancora più informazioni rispetto alla notizia del primo episodio delle tre cose che dovete sapere e spero di essere stato il più chiaro possibile questa come prima cosa che dovete sapere sul multiplayer di call of duty world war 2 la seconda cosa che dovete sapere che sparirà la kill cam finale avete capito bene una delle caratteristiche da sempre di call of duty praticamente non ci sarà più e verrà sostituita da quello che abbiamo potuto vedere ad esempio su overwatch e cioè la migliore giocata del match quindi quando terminerà la partita non vedremo più la kill finale che c'è stata appunto al termine del team that match al termine di dominio o della modalità qui stiamo giocando ma ci sarà la migliore giocata della partita come già accade sul titolo di overwatch la terza cosa che dovete sapere che all'interno del multiplayer di call of duty world war 2 non ci saranno a quanto pare le mimetiche animate la prima mimetica che è stata mostrata del gioco è quella che abbiamo potuto vedere alcuni giorni fa che è la mimetica bonus nazi zombies mimetica animata che potremo ottenere grazie al preorder del gioco quindi nella modalità zombies le mimetiche animate ci saranno mentre michael condrei ha confermato che all'interno del multiplayer non ci saranno mimetiche animate quindi ci dobbiamo subito togliere dalla testa la bellissima mimetica dark matter di call of duty black ops 3 queste sono le tre cose che dovete sapere in questo episodio sul multiplayer di call of duty world war 2 a raggiungimento dei 250 mi piace subito un nuovo episodio multiplayer ma soprattutto un nuovo appuntamento con le tre cose da sapere su nazi zombies qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo con tanti nuovi video ciao Grazie a tutti